il 31 dicembre del 2013 chiudeva i cancelli dopo quasi un secolo di storia industriale la leuci di lecco terminando definitivamente la produzione storica di lampadine nel frattempo ci sono stati tre lavoratori morti per malattie correlate all'asbesto alla fibra omicida dell'amianto presente sui tetti dei cappannoni con le onduline ancora visibili e nelle coibentazioni degli edifici e non solo gli operai della leuci sono entrati in contatto con l'amianto molti sono i cittadini lecchesi i quali respirano ancora oggi dalle loro case l'amianto che ancora non è stato bonificato rosalba lunghi lei vive qui da 40 anni da oltre 40 anni proprio a ridosso della leuci insomma quando si apre la finestra che cosa si prova io non apro tanto la finestra per il fatto che come se il vento vola di qua mi volano tutte le particelle arrivano tutte da me non apro neanche stendevo adesso stendo un po ma prima non stendevo stendo le lenzuola e poi le metto nel letto cosa vuol dire avevo i nipotini poi sono andati via di casa e i primi tempi che c'era qua una signora appena arrivata con i bambini non li manda giù in cortile e mai in giù ma vieni a giocare nel terreno inquinato nessuno gioca in cortile dei bambini sono qua 45 no 78 bambini sono qua nessuno scende neanche con la bicicletta la questione ex leuci è tornata alla ribalta dopo il fallimento della lago srl la società titolare dell'ex leuci ad oggi risulta interamente bonificato il materiale friabile mentre l'amianto compatto risulta rimosso solamente per una quota del 30 per cento l'amianto all'ex leuci c'è come funziona la normativa comune ats fino al ministero insomma chi se ne deve prendere carico in questa fase le responsabilità sono del comune cioè dal momento in cui viene dichiarata un pericolo per la salute pubblica che il sindaco ha dichiarato dopo avere fatto gli accertamenti preventivi che sono in capo all'ats e ha portato appunto il sindaco ad emettere un'ordinanza a quel momento la responsabilità fattiva del rispetto dell'ordinanza spetta soltanto al primo cittadino che è il primo ufficiale per la tutela della salute pubblica quindi quello che è accaduto nel caso della leuci è che emessa l'ordinanza allo scadere dell'ordinanza se il privato non avesse cominciato le operazioni di bonifica il sindaco avrebbe dovuto agire con i soldi pubblici quindi con i soldi di tutti noi bonificare dopodiché andare in rivalsa con una causa civile per farsi rimborsare dal privato proprietario questo dice la legge al momento dell'attuazione dell'ordinanza proprio sul filo del rasoio della scadenza il privato iniziò la bonifica il fatto che ora il privato sia fallito per cui a maggior ragione non esime il sindaco dal rispetto dell'ordinanza quindi non occorre in questo momento andare a parlare col curatore fallimentare per capire se avrà intenzione di continuare la bonifica visto che per atti legati ai reati fallimentari probabilmente questo signore dovrà effettuare degli inventari dei conti per capire quali sono i momenti di cassa di questa società occorre immediatamente bonificare con i soldi pubblici perché questo dice la legge e dopodiché insinuarsi al passivo del fallimento per farsi rimborsare di ciò che si è speso i tetti i tetti riparo protezione e ristoro sono invece oggi ancora un killer silenzioso che colpisce i lecchiesi nelle loro case non dimentichiamoci che a questo punto mancano ancora molte coperture che in questo momento sono sempre più deteriorate teniamo conto che un anno fa erano deteriorate oltre il 65 per cento per cui è passato più di un anno e sicuramente queste coperture oggi rilasciano ancora più fibre per cui per noi attualmente la nostra priorità è la salute dei nostri cittadini lei ha mai pensato di lasciarla per questa situazione? l'abbiamo comprata, fatica, appena finito di pagarla mi spiace anche lasciarla a casa poi se tu fai, vai di casa, devi fare un trasloco, cambiare tutto, cambiare i mobili non è possibile in una famiglia normale il figlio purtroppo non c'è più, 40 anni, non so se per l'alleuce o per che cosa e sai quando pioveva, pioveva acido lì famiglie come voi che abitano qui nei dintorni, il comune e le istituzioni le hanno un po' lasciate da soli? sì, 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 non si vede mai nessuno arrivare, mai visto nessuno